Diciannovesima edizione del Presepe Vivente di Mottola, siamo con Pietro Palagiano, l'organizzatore. Oggi si presenta appunto questo evento, però c'è tanto tanto lavoro alle spalle, come sottolineava il Sindaco. Sì, tantissimo lavoro. Noi iniziamo circa da due mesi a questa parte per poter realizzare tutto lo scenario, quello delle grotte Madonna delle Sette Lampade, dove anche quest'anno si svolgerà questa edizione del Presepe Vivente, che quest'anno è giunto alla diciannovesima edizione. Le date sono quelle del 23 dicembre e del 5 gennaio. Ricordo che il 23 dicembre ci sarà una doppia apertura in mattinata a favore dei bambini della scuola dell'infanzia Dante Alighieri e poi nel pomeriggio quella classica con alle ore 17.30 il taglio del nastro con la presenza delle autorità. Ecco, un Presepe che si rinnova con la stessa, anzi una passione sempre maggiore, con delle novità. Ecco, molto importante l'aspetto didattico, dicevamo, con le scuole, con i più piccoli. Ecco, il Presepe dei piccoli. Sì, sì, questa è una delle novità. Qualche altra novità? Qualche altra novità. Abbiamo la novità, quella della rappresentazione, cerchiamo di rappresentare tutto in toto la rappresentazione del Presepe Vivente. E oltre a quella del 5 gennaio, ossia dell'editto di Erode, delle due rappresentazioni dell'editto di Erode e della Calata dei Magi, noi il 23 dicembre, appunto tra le novità, è quella di proporre l'arrivo a Bethlehem dove appunto ripercorreremo tutti i momenti sacri proprio di questa rappresentazione per portare, come si dice proprio in gergo, la Maria e San Giuseppe nella grotta della Natività. Questa è una delle novità. Poi abbiamo l'altra novità, la novità che è quella chiamata appunto il Presepe nel Presepe Vivente dove noi in una delle ultime postazioni, in una capanna, appunto realizzeremo con la collaborazione dell'Associazione Nativiti di Mottola un Presepe in miniatura di statue fatte alte circa un metro che risalgono alla seconda metà del XX secolo. Sindaco, il Presepe Vivente di Mottola rappresenta davvero qualcosa che fa parte del patrimonio di Mottola un'occasione per far crescere il territorio, per promuoverlo? Sicuramente sì, siamo arrivati alla diciannovesima edizione, quindi ormai siamo a un appuntamento fisso quello che può essere considerato un appuntamento fisso e sicuramente visto anche e soprattutto lo scenario nel quale poi si tiene l'appuntamento del Presepe Vivente di Mottola possiamo dire sicuramente che è uno dei maggiori eventi che promuove la nostra collina e quindi può essere considerato anche un punto di riferimento per tutti coloro che vengono anche dei turisti che vengono dalla regione ma anche da fuori regione. Poi il tutto, volevo dire, è chiaro che poi si tiene all'interno di un contenitore che è quello che è la grotta della mano delle sette lampade che si prestano proprio naturalmente ad essere lo scenario di un Presepe Vivente. Il professor Nicola Latorrata, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Mottola come evidenziato quest'anno c'è una novità, ci sono più novità ma una di queste è appunto il Presepe dei Piccoli, un modo davvero per far sì che i più piccoli vivano il Natale quindi una finalità didattica, una finalità appunto di crescita. Ecco, sicuramente non è stato facile perché ovviamente con i più piccoli bisogna agire di psicologia però è un risultato certamente grosso, una novità pesante. Sì, intanto dico che per la scuola è un'occasione propizia per far sì che possono applicare i nostri bambini, i nostri alunni in contesti d'uso diversi da quelli della scuola, le conoscenze e le abilità apprese e quindi giungere a quelle tanto attese e aspirate competenze. Parliamo di competenze non solo cognitive ma anche e soprattutto sociali e civiche, quindi competenze di cittadinanza. Oggi viviamo un periodo storico particolarmente importante per la decadenza, per alcuni aspetti dei principi, dei valori sociali, etici, morali e quindi questa manifestazione del presepe vivente è anche l'occasione per far sì che questi valori vengano riportati alla luce. Anche perché oggi purtroppo per i più piccoli si sono perse quelle caratteristiche legate alla tradizione, oggi è tutto internet, playstation e quant'altro, invece una rappresentazione vivente del presepe fa crescere, fa maturare i più piccoli. Sì, è vero, condivido pienamente, infatti la progettazione che abbiamo messo in campo dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi grazie al lavoro intenso svolto dai docenti e in questo caso soprattutto dalle maestre della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno appunto rimarcato questa importanza, quello di dare valore alle emozioni, come dicevo prima e soprattutto ai valori etici, morali e sociali che ci riguardano.